Buongiorno e benvenuti a questa era la sedia stappa di oggi 17 giugno. La cosa che come avete ormai capito mi diverte di più in questo periodo è la grande vicenda che riguarda le toghe, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, il CSM e le persone che dovrebbero amministrare la nostra giustizia. È il tema fondamentale perché stanno uscendo tutte quante le carte. Allora che cosa è successo? Hanno messo sul telefonino di uno dei magistrati più importanti, diciamo più influenti di Roma, questo Palamara, un Trojan, un microchip. Questo microchip ha fatto sì che tutte le conversazioni di questo Palamara siano state registrate. Dopo aver registrato tutte queste conversazioni si è visto che un gruppo di magistrati che doveva decidere delle carriere di altri magistrati, questo gruppo di magistrati in sostanza trescava non solo tra di loro, ma trescava anche con dei politici del Partito Democratico per decidere chi mandare dove. Insomma un mercato delle toghe che è ovviamente sempre esistito, soltanto gli ipocriti fanno finta che non sia esistito, ma in realtà in questo caso è esistito con un sopporto consulenziale fatto da politici che non è così sano. Questo Trojan ha fatto sì che quindi venisse intercettato tutto quello che faceva Palamara. Quando una cosa la fai di nascosto, vabbè, la puoi intuire e non piacerti, ma quando la cosa viene disvelata attraverso le intercettazioni fatte dalla Guardia di Finanza pubblicate dai giornali diventa un gran casino ed è quello che sta avvenendo oggi. Benvenuto cari magistrati nel mondo di noi esseri normali, per cui le nostre intercettazioni vengono pubblicate sui giornali, si fa carne di porco della nostra privacy, anche un nostro soffio viene mal interpretato perché ovviamente l'intercettazione, che cosa fa scritta sui giornali? Non dà il contesto, non dà il senso e quindi quella di Palamara diventa uno sputtanamento complessivo per il quale sono passati tutti quelli che sono stati intercettati. Vi segnalo che oggi Buonafede, il Ministro della Giustizia, sul fatto quotidiano che è precotto il lunedì, rivendica che proprio sul giornale che ieri attraverso Travaglio invece prendeva addirittura delle distanze dal Troian, rivendica che grazie alla sua norma spazza corrotti oggi tutti possono utilizzare il Troian, sostanzialmente quindi rivendica il fatto che siamo nella DDR in Europa. Scusatemi bevo che... scusatemi, beh insomma nelle carte di oggi che cosa emerge, senza che andiamo a fare, la cosa più divertente che emerge è che il Procuratore Generale della Cassazione, il super capo del sistema accusatorio italiano, beh fa parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratore ed è lo stesso che ha avviato, diciamo, una procedura disciplinare nei confronti di questi signori del CSM. Ma soltanto qualche mese fa, intercettato dal Troian di Palamara, trescava con Palamara perché si ottenesse un incarico in una procura d'Italia. Insomma, avete capito? Quello che oggi indaga ieri era il complice secondo le intercettazioni fatti dal Troian. Insomma, è una cosa pazzesca. Nel frattempo l'Associazione Nazionale dei Magistrati, cioè il loro sindacato, è ritornato a essere la CGL. Il sindacato dei magistrati prima aveva questo signor Grasso, che era della magistratura indipendente, cioè del centrodestra. In magistratura ci sono le correnti sinistra, magistratura democratica, che non sia più così. Centro e centrodestra. Favoloso. Questo magistrato si dimette dalla NM, si dimette dalla soccorrente e alla fine arriva un nuovo capo dei sindacati dei magistrati. E che cos'è? Si ritorna con la magistratura di sinistra. Ma con chi trattava la magistratura? Col PD, che è un partito di sinistra. E chi è che lo faceva? Le correnti di destra. Non ci avete capito nulla? Non vi preoccupate. La sostanza è sempre quella. E cioè che in questo momento, mentre noi abbiamo tribunali che non fanno le loro operazioni, giudici civili che sono distaccati, si sono presi 15 giorni di ferie in più, tutto legittimo, tutto a posto, cioè noi stiamo soltanto occupandoci dei loro posti e delle loro carriere, non comprendendo che la giustizia fa cagare in Italia sia quella penale sia quella civile per la sua lentezza. Ma andiamo avanti così, con buona fede che dice viva i Troian. Nel frattempo i Partito Democratico litigano come delle bestie, perché ieri Laboschi dice, è incredibile come Lotti, che era uno dei politici che si occupava delle nomine in magistratura, sia stato più attaccato dal PD che dagli altri partiti. Vero, ma il punto fondamentale, come ricorda qualcuno oggi il Corriere della Sera, è che il grande nemico di Lotti, vi sembra incredibile, è proprio Laboschi. Diciamo che la politica è incasinata con la magistratura, cioè Lotti e Boschi sono amici di Renzi, ma Lotti e Boschi non si sopportano e oggi Laboschi difende Lotti. Insomma, è un gran casino, un gran casino nel Partito Democratico che oggi è sintetizzato da una bellissima tabella del Corriere della Sera in cui si vedono tutte le correnti, quindi la corrente di Lotti che sta con Renzi, la corrente della Boschi e di Nobili che sta a correnti, la corrente di Franceschini e poi c'è la corrente di calenda. Il partito devastato dalle correnti, sembra il CSM verrebbe da dire. Renzi nel frattempo trova il tempo e fa bene a scrivere una lettera di risposta a Monti che ieri lo attaccava dicendo che nel governo Renzi non c'era stata la crescita. Dice, senti, per uno che ha avuto un governo che ha fatto il meno 2,4% stai zitto almeno, uno che è riuscito soltanto a introdurre tasse su tasse, stai zitto almeno, dice Renzi facendo un buon ragionamento rispetto a Monti, perché Monti fa il fenomeno, ma in realtà il suo è stato il peggior governo che noi abbiamo avuto negli ultimi anni, molto peggiore rispetto a quello di Renzi che qualche riforma strutturale a mio avviso ha provato a farla. Poi ha sbagliato, un arrogante, non vi sta simpatico, ma quello che vi dico è rispetto a Monti, mi sembra non è tanto il cornuto, insomma avete capito, ma mi sembra che Renzi sia certamente molto più compatibile con un paese normale che voglia crescere di quanto sia quel professore che non aveva neanche la più pallida idea di che cosa stesse avvenendo. Dal punto di vista politico vi segnalo Panebianco che fa un titolo, un pezzo molto interessante perché dice che oggi il più grande alleato di Salvini sono i suoi nemici, sono i suoi nemici che fanno i fenomeni, che fanno dell'accoglienza un tabù, quelli che fanno, sono quelli che quando una donna islamica, il marito di una donna islamica in un ospedale dice non può essere in corsia con un'altra persona, questa donna islamica, perché quell'altra persona è visitata da uomini e quindi non è concepibile per noi islamici che ci sono degli uomini nella corsia dell'ospedale, beh l'ospedale invece di rispondere scusami cara noi tu curiamo ma le nostre leggi la metti in una camera da sola, ecco dice questo è un grandissimo spot elettorale per Salvini e ha perfettamente ragione Panebianco. Peraltro lo stesso Minniti che aveva iniziato a fare delle questioni molto interessanti sull'immigrazione, chapeau, fu contestato da chi? Da Babbo Natale o dai suoi compagni di partito? Dai suoi compagni di partito. Nichetola che trigo schifoso del PD è meglio preparare gli schifosi bugiardi? Vabbè ce l'avete tutti col PD, Monti, Prodi, i venduti e padroni europei. Vabbè. Altra cosa che vi segnalo oggi sulla politica è che la Lega secondo tutti quanti i giornali sta prendendo una direzione un po' diversa rispetto a quella di un anno fa e questo è molto positivo perché oggi sui giornali dal Messaggero al Corriere si dà l'idea che la Lega voglia cambiare per esempio il decreto dignità. Il decreto dignità è un obbrobrio e quel decreto approvato subito un anno fa dal governo per cui si rendevano più difficili i contratti a termine in cui si reintroducevano le tre causali. Prima ce n'era una, ora sono diventate tre. Che se da una parte ha fatto finta che i contratti a termine diminuissero, dall'altra ha aumentato notevolmente il turnover. Io dopo un anno che ho formato una persona, via a casa e me ne trovo un'altra. Forza, avanti. Tanto occupazione non c'è, disoccupazione ce n'è moltissima e quindi in questa maniera sì che si sfruttano le persone, molto più di prima. Bravo il Papa Francesco che spesso litighiamo con lui in maniera costruttiva perché l'idea che si è andato a Camerino col suo caschetto in un posto che da tre anni, non solo a Camerino, nel cratere del terremoto in cui ci sono 140 comuni che ancora non sono stati ricostruiti, è una vergogna italiana. È una vergogna perché qualsiasi politico fa finta di ricostruire, almeno fossero sinceri, non abbiamo i soldi, non ve li ricostruiamo, sono città spopolate, ritornate in città, inventatevi quello che vi pare, ma la finzione di ricostruire e non ricostruire è la cosa più orribile che si possa fare. Peraltro non ricostruiamo piccoli comuni dell'entroterra italiano che hanno un'importanza storica e civile importantissima ma meno visibile di quanto si stia facendo a Genova in cui ci avevano promesso che in un anno si sarebbe ricostruito il ponte Morandi. Beh, vi dico subito una cosa semplice, banale, in un anno non l'abbiamo neanche demolito, in un anno non è stato ancora demolito il ponte Morandi, non ricostruito, non è stato demolito. Allora a questo punto ci possiamo fidare delle cazzate che dicono tutti i politici riguardo la ricostruzione. In Italia non si può fare nulla perché c'è la corruzione, perché c'è l'evasione, gli stessi cittadini italiani avvalorando questa tesi, sono ben compresiuti del fatto che in questo paese ci vogliono 40 autorizzazioni per fare qualcosa. Meno leggi, meno autorizzazioni e chi se ne frega se becchiamo qualcuno che si prende una stecca. Tanto se la prende ugualmente oggi o no, ma questa cosa non si può dire. Io d'altronde non faccio il politico e dico quello che cavolo mi vale. Come posso dire un'altra cosa molto semplice e cioè sul blackout in Sud America, leggetelo, è molto interessante, 50 milioni, mezzo territorio europeo senza luce, racconta cos'è il mondo senza tecnologia, racconta che cos'è il mondo senza i combustibili fossili, racconta cos'è il mondo mal gestito in cui le tariffe elettriche per la manutenzione sono state tenute basse dai precedenti governi, l'ho letto sul Rocco Cotroneo oggi, e quindi non si manutengono neanche le centrali idroelettriche. Ma racconta soprattutto una cosa straordinaria e cioè che in Italia, lo leggo sul Corriere della sera, il 13% di energia elettrica che voi consumate, però andate a manifestare con Greta, gretini, il 13% la importiamo dall'estero perché noi non la produciamo, perché ci fa schifo produrre energia elettrica in Italia, non raccogliamo il petrolio, non produciamo energia elettrica perché no, noi non lo facciamo, però l'aria condizionata oggi, chi di voi l'ha spenta? Chi di voi ha spento l'aria condizionata in questo secondo? Nessuno! E se si spegne fate gli isterici e quindi non la produciamo noi, la importiamo da fuori, se cade un albero tra l'Italia e la Svizzera come avvenne nel 2003, non abbiamo energia elettrica, però stiamo lì che piagnucoliamo con Greta e con il fatto che in Italia non vogliamo nucleare, lasciamolo perdere, ma non vogliamo più fare nulla perché a noi ci fa schifo, noi vogliamo le città senza auto, come dice la Appendino, geni totali, senza auto ma con il riscaldamento e con ovviamente il raffreddamento. In Danimarca succede la seguente cosa straordinaria, vince la sinistra, sono stati costruiti 29 ghetti per gli stranieri, hanno 510.000 immigrati su 5 milioni di abitanti, vi rendete conto che ovviamente 10% della popolazione immigrata è una cosa incredibile e ingestibile. Ma la cosa straordinaria, quando vi dicono del fascismo, del decreto sicurezza, di Salvini, ricordategli un pezzettino di Repubblica di oggi, i reati commessi dagli immigrati in questi 29 ghetti, come li chiamano i danesi, i reati commessi dagli immigrati in questi 29 ghetti hanno pene maggiori rispetto ai reati medesimi fatti a Copenhagen in un'altra città. Ah, vi rendete conto? Cioè, se tu commetti in quel ghetto un reato e sei un immigrato, hai una pena maggiore. E noi parliamo di fascismo e di nazismo col decreto sicurezza, ma siamo impazziti, siamo impazziti. Qualcuno si ricorda quel blackout, leggo chi si può dimenticare di quella notte senza luce, in effetti alle 3 di notte abbiamo avuto il blackout. ONG, due punti completamente diversi. Biroslavo, che ci racconta chi le finanzia, i soldi da dove arrivano, ne parleremo questa sera a Quarta Repubblica. Gli aerei così costosi di queste ONG, chi li paga? Dice Biroslavo, politici, attori e rockstar, cioè le persone che hanno meno a che vedere ovviamente con l'emergenza di un tempo, oggi inferiore, in migrazione. Mentre invece Gad Lerner su Repubblica dice, beh insomma Soros, tutti che se la prendono con lui, che male c'è se un magnate, un miliardario, fa il liberal e finanza organizzazioni benefiche, nulla caro Gad Lerner, però quel finanziere tanto intervistato da Repubblica sull'andamento economico del mondo, sugli immigrati, beh insomma è lo stesso finanziere che ha buttato la lira e la sterdina fuori dall'Italia, è lo stesso speculatore che ha fatto miliardi con cui oggi finanzia l'ONG sputtanando le nostre economie, distruggendoci da un punto di vista finanziario, per colpa nostra, io sono a favore degli speculatori, allora mettiamoci d'accordo, lo speculatore pro immigrati vi va bene e quello che state decidendo? Se vi va bene andiamo avanti così. Direi che per oggi è tutto, questa sera come sempre Quarta Repubblica alle 21, la questione degli immigrati, avete capito, mi interessa, ma soprattutto quella del CSM, perché si tratta di una specie di grande paradigma dell'Italia, in cui nessuno veramente si può dire poco ipocrita, perché in realtà i magistrati, come i condomini, come nei condomini, come tra i politici, come tra i cugini, come in famiglia, alla fine cercano di portarsi a casa il risultato migliore con lo sforzo inferiore e quando lo fanno, talvolta con i politici, la cosa diventa un trojan. Ciao!